Il reparto service è tra i core business della nostra azienda. Grazie a un team qualificato ogni giorno riusciamo a gestire i casi di emergenza delle riparazioni. In questo modo riusciamo a soddisfare i nostri clienti secondo le loro esigenze. Grazie all'implementazione di un nuovo software chiamato SOP, il service oggi è in grado di garantire tempi certi sulle riparazioni. Grazie al fatto che una volta fatta l'ispezione l'elenco dei pezzi di ricambio è subito disponibile. SAV Italia è una delle più grandi realtà europee dopo casa madre in Germania. Questo ci permette ogni giorno di costruire 250 motori e quindi di avere un parco di ricambi in magazzino molto fornito. Questo permette anche al service di avere sempre ricambi pronti per garantire interventi in 24 ore. Siamo sempre più vicini ai nostri clienti e ogni giorno lavoriamo con loro per creare le mappature dei loro impianti. Grazie a questa lista riusciamo ad avere l'elenco esatto delle parti di ricambio che serviranno in caso di guasto. Per essere più vicini ai nostri clienti dal prossimo anno verrà aperto anche un centro service a Caserta e in un prossimo futuro anche nella sede di Bologna. Credo che nel prossimo futuro il service subirà un'evoluzione grazie all'arrivo dei nuovi motori sensorizzati con a bordo sensori vibrazionali, sensori di temperatura e sensori di rumore saremo in grado di prevedere il guasto per tempo e grazie a questo la manutenzione sarà rivoluzionata. Potremo programmare l'arrivo di un nuovo ricambio e non avere lo stress di dover riparare in 24 ore un pezzo. Grazie a tutti.